Di nuovo buona domenica ragazzi e bentrovati in questa nuova analisi Allora questo video è molto completo e molto complesso perché inserirò diversi cripto Anche qualcuna un po' particolari, partiamo proprio con le particolari L'altro giorno durante la diretta avevo ricordato un mio vecchio acquisto che è Flow Flow che è stata listata su Binance che però me lo dà sull'app ma non sulla parte web Non so per quale motivo, quindi andiamo qui sul Flow di CoinMarketCap Che oggi ha perso un 14% ma ieri addirittura è stato protagonista tra ieri e l'altro ieri di un pump e dump Su Binance 36,20 dollari Ora stiamo intorno ai 22,50 quindi è abbastanza stabile Diciamo un po' il prezzo delle ultime settimane Questo è il grafico di Flow che sta perdendo diversi punti percentuali in termini di trading volume Però comunque è una cripto moderatamente stabile Il che non vuol dire acquistiamo Flow ma significa semplicemente collegiamo un attimo il momento del mercato Cerchiamo di capire un po' come si sta comportando Come al solito per chi scoprisse solo oggi i malati per le cripto Il consiglio all'iscrizione è sempre ovviamente attivo e valido Ricordo anche di cliccare sulla campanella per non perdere nessun aggiornamento Adesso andiamo a vederci sempre su quel market cap Un cripto che ieri ho visto molto particolare Sinceramente mai vista in vita mia Dogelon Mars O Dogelon Mars non lo so come si pronuncia Che ha fatto una performance ieri mostruosa Eccola qua Cioè ieri valeva quasi niente Cioè tutto ha fatto tipo il 5000 o il 6000% Adesso non so bene in termini percentuali Non ricordo Poi ha fatto questo mega pampone E poi tampone glamoroso Quindi attenti a questi prodotti Cioè a questi prodotti, questi progetti, queste cose così astruse Perché o siete voi a manipolarle O sono loro a manipolare voi Quindi attenzione Però ecco la performance di ieri sicuramente è stata strabiliante Non potevo credere quando ho visto certi livelli così importanti Cioè vedete quanto ha mosso ieri in termini proprio di performance E poi andiamo adesso invece sul mercato un po' più reale Bitcoin già l'ho fatta Quindi se non aveste visto il video Vai andate subito a vederlo Perché è veramente molto interessante Andiamo a vedere invece le cripto Che sono un pochino tra virgolette messe in disparte Però sono sempre interessanti da analizzare Vediamoci intanto Bitcoin Cash Che arriva sempre un po' in ritardo Però ecco devo dire che si sta configurando una bella candela rialzista Avendo rotto anche livelli importanti Vediamo se riesce a ripartire anche BCH BCH che per molti è un investimento parallelo al Bitcoin Non in termini di lungo periodo Ma in termini speculativi Infatti molto spesso vedete che poi segue quello che è l'andamento generale E diventa poi ovviamente anche vittima di quelli che sono i crolli Però momentaneamente BCH per me è molto molto interessante Quindi attenzione perché potremmo rimanere stupidi da questa cripto Poi sempre per parlare di paralleli Andiamo a vederci Un classic Che sta ricominciando Anch'esso a performare Allora fase di stallo in questo momento Ancora abbastanza evidente Vediamo un attimo come si sta comportando Io attenderei quantomeno la rottura di certi livelli Livelli importanti In questo caso 56 dollari Qualora rompesse a rialzo Dovrebbe essere una buona opportunità Anche ETC Ovvero andare a lavorarci sarebbe cosa Buona e giusto Ovviamente lavorare in base alle proprie capacità Questo è un mercato come vedete Molto no? Molto dinamico Molto volatile Questi volumi a ribasso Un po' come per le cripto principali Dimostrano che poi Forse magari potrebbe essere ancora una zona di congestione Perché giustamente queste spinte Questi scarichi dimostrano sicuramente Che non c'è particolare direzionalità Però ecco questo blocco Per me deve comunque essere rotto in un verso o nell'altro Al momento sembra un po' più indirizzato Al rialzo Quindi per quello che riguarda ETC Assolutamente molto interessante Tenere sotto controllo la situazione Andiamo a vederci il link Che spesso viene richiesta Ecco questo livello Io l'avevo marcato settimane fa Insieme a voi durante un'analisi Chi c'era sicuramente se lo ricorderà E giustamente ecco Una volta che è stato rotto Ha preso il largo Prende il largo E praticamente va diritto ai 24 dollari Vediamo se riuscirà a romperli O se sentirà fortemente questa resistenza Comunque mercato sul link Assolutamente molto positivo Quindi ecco cerchiamo di essere Precisi nel gestire l'operatività Attendendo e portando sempre attenzione Per quelli che sono dei riferimenti Anche sul grafico settimane Vediamo come sta provando ad invertire la rotta Però ancora non ci riesce al 100% Perché comunque Ha ancora una sua debolezza dentro In quanto queste medie Ci parlano chiaro Sono ancora incrociate a ribasso Non c'è ancora Una vera spinta a rialzo Perché il trend non è ancora Stato invertito Vediamo se costituirà Un minimo e massimo crescente Che ci darà ovviamente Molta più Diciamo così Potenzialità Molta più Molta più spinta Molta più voglia Di credere che il mercato Stia realmente invertendo Al momento ci sta provando Ma non è ancora detta l'ultima parola Andiamo a vederci poi Litecoin Che nonostante tutto È sempre lì Figlia del mercato Comunque è una delle più utilizzate Ancora in chiave speculativa E anche in chiave di scambio Che comunque Evidentemente è mossa Altrimenti questi volumi Non ce li avrebbe E vediamo come Anche in questo caso Stia provando Ad invertire la rotta Un mercato Che non sta Ancora dicendo nulla In termini di rialzo Seppur È vero sì Che la base Delia è molto positiva Però Aspettiamo Quelle che possono essere Configurazioni importanti Su base settimanale Vediamo quanto riuscirà A spingere Litecoin Comunque è un mercato Assolutamente molto Molto positivo Andiamo a toccare Qualcuna Una delle cripto Un po' più richieste Nonostante la La piccola La piccola Struttura In termini di prezzo Però ecco Piccola ma Molto Molto interessante Abbiamo Vett Che sta realmente Di nuovo Provando ad invertire la rotta Non ci sono ancora Le configurazioni totali Su grafico settimanale Però sicuramente Grafico giornaliero Parla per Per noi Parla a favore Di una Possibile ripartenza Vediamo se riuscirà Realmente Ad invertire Il trend Delle ultime settimane Questa spinta È molto positiva Addirittura Vediamo come il grafico Sia improntato A rialzo Con una certa forza I volumi Anche qua Nella candela Del Questo è valso Per tutte le cripto Candela del 26 luglio È stata la più Voluminosa In termini di scambi Adesso sta provando A proseguire Però c'è comunque Una debolezza Abbastanza evidente Non ci sono queste Belle candelone 2-3 Che si succedono E ci fanno avere La chiarezza Di intenti Del mercato Però sicuramente Ecco Piuttosto di vedere Tutto il mercato rosso Vederlo verde Per 10-12 giorni È assolutamente Cosa più interessante Sulla quale Poter lavorare A rialzo Ovviamente Ricordiamoci che La chiave Di lettura Per il lungo periodo Deve sempre essere Il settimanale Che al momento Fa un po' fatica Quindi attenzione A non essere Troppo frettosi Quindi io vi ripeto Massima prudenza E gestione In modo corretta In corretto Delle vostre posizioni Ragazzi Io non posso far altro Che augurarvi Una buona domenica Vi ringrazio Per aver visto Anche questo video Vi rinnovo L'invito Ad iscrivervi Al canale E cliccare Sul pollicione Perché Giustamente Andiamo a stimolare Anche un po' di più Le persone Che vedono il video Ad essere Partecipi Di questo tipo Di argomenti Se avete qualche Crypto in particolare Basta Scriverlo Giù nei commenti E quando Avrò un modo Sarà un piacere A fare analisi tecniche Insieme a voi Ciao a tutti E buona domenica Di nuovo Da Fabrizio Ferri Il vostro analista tecnico